Un videogioco per insegnare ai bambini l'importanza della prevenzione, della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro. Un videogioco per prepararli ad essere in futuro adulti attenti e responsabili. E l'idea alla base degli scacciarischi, realizzato dalla barese PM Studios, sulla base di un'idea promossa dall'Einal Direzione Regionale Puglia e dall'assessorato alla promozione della salute della Regione Puglia, con la preziosa collaborazione dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia. E' rivolto a tutti gli studenti delle scuole pugliesi, che potranno partecipare ad un concorso a premi scaricando il videogame. I videogames sono solitamente considerati banalmente una perdita di tempo solo per l'intrattenimento, però sono in realtà uno strumento di comunicazione potentissimo della nostra modernità, della nostra contemporaneità, che, se strutturati in modo da far passare determinati contenuti educativi, raggiungono con estrema efficacia tutte le generazioni. La generazione dei bambini è fondamentale raggiungerla, perché poi chiaramente saranno gli adulti del futuro e se riusciamo a farli passare la cultura della sicurezza, che INAIL vuole riuscire a comunicare, a far passare a questa nuova generazione, ci troveremo degli adulti che, divertendosi, giocando da bambini, poi avranno degli stili, dei comportamenti di vita sicuri, che saranno molto utili a loro in futuro. L'iniziativa rientra tra le numerose attività che INAIL e Regione Puglia realizzano per sensibilizzare i pugliesi su questo importante tema. Gli olimpiadi della prevenzione, che sono dedicate specificamente, organizzate da INAIL e Regione Puglia, e sono specificamente dedicate alle scuole e agli studenti pugliesi, i docenti si possono iscrivere alle olimpiadi dal sito ufficiale, ricevere poi le credenziali, in base al numero di studenti che vogliono iscrivere, e poi dare queste credenziali ai ragazzi. Inizia il 21 febbraio la sfida, si conclude a maggio, e poi i vincitori di queste olimpiadi riceveranno dei premi in denaro da INAIL e Regione Puglia da spendere nelle loro scuole per comprare tutti quanti una serie di dispositivi che riguardano la sicurezza nelle loro scuole.